La SL20 di Serafino Leone e Giovanni Di Pasquale organizza una grande serata di musica e cabaret. Il tutto si svolgerà a Palermo il 14 giugno dalle ore 21 presso il Teatro Jolly di Via Domenico Costantino. Ci sarà da ridere con i sempre freschi e i fuori fase e poi grande musica con Girolamo Moscatello, Carmelo Federico e a chiudere il tutto il concerto di Gianni Celeste. Conduce la serata Serafino Leone. Per info e acquisto ticket contattare i numeri in sovraimpressione.